Dopo il pesante capo interno contro i Ceseni, il Mantova domani cerca il riscatto in casa del Legnago. A guidare i biancorossi ci sarà il mister Troise che torna così dalla squalifica remediata a Salò. Il match contro il Legnago e il mercoledì il Gubbio al Martelli impagli 6 punti che sono sicuramente la portata dei Virgiliani. L'obiettivo deve essere quello di ricercare costantemente la mentalità che questa squadra ha dimostrato fino ad oggi, cioè valutare di partita in partita. Domani ci sono tre punti in palio, una partita importante, quindi noi dobbiamo concentrarci soprattutto su quella. Poi alla fine della gara dovremo ricaricare le energie per preparare l'altra. Un Mantova che è forte dei 24 punti in classifica ha la possibilità concreta di avvicinarsi ulteriormente alla quota salvezza, ma Troise avverte tutti, niente calcoli. In questo senso nel mio piccolo, nelle mie esperienze fatte, è una cosa che non ho mai fatto, forse nemmeno da giocatore. Fare tabelle, punti, credo sia un dispendio di energie che va troppo in là rispetto a quello che poi è il presente, come abbiamo visto la settimana scorsa e di quello che stiamo vivendo, già molto incerto nel presente, quindi andare troppo in là, io direi, non è, ripeto, nella mentalità che deve assumere questa squadra, ma continuare su quello che è il quotidiano. In vista del match di domani ci sono ancora parecchi dubbi di formazione. Troise potrebbe tornare al 4-3-3 o confermare il 4-4-2, visto contro il Cesena. Siamo ancora in fase di valutazione, come tutte le settimane farò le scelte all'ultimo momento, perché comunque in questo momento, al di là dell'indisponibilità di Bianchi e di Banigia, la squadra è diventata molto competitiva, i ragazzi tra loro mettono molta competizione, e questo fa sì che, insomma, per un allenatore crea, insomma, delle, tra virgolette, difficoltà, ma sono difficoltà belle, perché vuol dire che il gruppo è cresciuto e tutti possono ritagliarsi uno spazio. Mercato ormai alle porte, frequenti i contatti con la dirigenza e nelle prossime settimane sono attesi di colloqui più approfonditi con la società per capire come muoversi, per poter rinforzare la rosa. Con il direttore c'è grossa sintonia e grosso confronto nel rispetto dei ruoli. Analizziamo quotidianamente, da parte mia, quello che è il rendimento dei ragazzi, ecco, da parte sua, insieme al club, quelle che saranno poi le cose da fare, ma in questo momento ci stiamo concentrando soprattutto sulle partite da affrontare, ne restano due prima della sosta, poi ci sarà tutto il tempo e la sede per discutere di altro.